Alessi! ...di scella alle loro due ruote, aggueritissimi, con voglia di fare alla grande. Forza ragazzi, ricordiamo che ogni giro consta di 5,8 km e la gara di questi atleti è preceduta dal giro... ...di scella alle loro due ruote, aggueritissimi, con voglia di fare alla gara di questi atleti, con voglia di fare alla gara di questi atleti, con voglia di fare alla gara di questi atleti. ...di scella alle loro due ruote, con voglia di fare alla gara di questi atleti, con voglia di fare alla gara di questi atleti... ...di scella alle loro due ruote, con voglia di fare alla gara di questi atleti, con voglia di fare alla gara di questi atleti, con voglia di fare alla gara di questi atleti... bravo Grazie bravo 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 Michele allez Sergio allez Gigi go bravo